Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città-villaggio-roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'Emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando le coste sommerse, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto, o per meglio dire una serie di prodotti, che potrà suscitare l'interesse di ogni aspirante re dei pirati. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'Emporio del Crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia la One Piece Trading Car Game Official Playmat Limited Edition Vol. 1 e la Premium Car Collection Uta e la Premium Car Collection Bandai Car Game Fest 2324 Edition. Vuoi dare il via alla tua avventura come collezionista nello sconfinato universo dei TCG ma non sai da dove iniziare? Colleziono da Zero è la soluzione che fa per te. Con questa guida dettagliata imparerai non solo a conoscere le basi di questo mondo, ma anche le strategie avanzate per massimizzare il valore della tua raccolta. Che tu sia alle prime armi o un amatore, questo libro sarà la bussola che ti guiderà nello sconfinato universo dei GCC. In Colleziono da Zero troverai consigli utili per muovere i primi passi in questo mondo, una panoramica sulle tecniche del collezionismo, come reperire intere collezioni attraverso strategie mirate, senza spendere un patrimonio anche se non hai esperienza. Acquista ora la tua copia personale cliccando il link che ti ho lasciato in descrizione o direttamente su Amazon digitando nella barra di ricerca Colleziono da Zero. Grazie infinite per il supporto e buona lettura. Torniamo al video. Partiamo procedendo in ordine con il Playmate Edizione Limitata, che personalmente, gusto strettamente soggettivo, trovo meraviglioso. La sezione mappata sulla sinistra, che riporta a chiare lettere il logo del gioco ed il trademark in basso, conferisce a questo prodotto uno stile unico, per non parlare dell'illustrazione che raffigura l'intera ciurma. Questa tavola è stata realizzata dal maestro Oda per l'opera manga per il capitolo 999, ovvero la parte sinistra e mille per quella a destra, e come per altre simili vede l'intero equipaggio di cappello di paglia festeggiare letteralmente sommersi nel loro. In più, la scritta in alto che riporta il nome del capolavoro nipponico dà quel dettaglio in più che ho adorato. Con le tipiche misure standard, 61 cm per 35,6, questo accessorio vi permetterà di affrontare partite in totale tranquillità, avendo anche una base in gomma antiscivolo che manterrà il tappetino stabile sul tavolo da gioco. Ora, dopo aver visto le diverse peculiarità di questo articolo, passiamo al costo. Non si tratterà di un Playmate economico, tutt'altro. Se il vostro interesse sarà tenere al sicuro le carte da sporco e altri fattori esterni, ci saranno soluzioni più economiche ed altrettanto funzionali, vedasi i corrispettivi offerti da Ultra Pro, Dragon Shield, Game Genic ed Ultimate Guard, che con 12 euro di media vi permetteranno di reperire quel che serve. Qui invece ci troviamo su prezzi che si assesteranno di media sulla sessantina. E va bene, è un prodotto a tiratura limitata, per i collezionisti può rappresentare una validissima occasione, e anche per i giocatori che ricercheranno chicche interessanti, questo può fare al caso loro. Ma se non rientrate in queste due categorie, ve lo dico apertamente come faccio sempre. Non lo consiglio per un fatto semplice. Con il denaro che potete spendere per questo tappetino, si avrà la possibilità di recuperare un buon numero di carte per terminare una lista che vi starà a cuore. Ma resta il fatto che l'ultima parola, se acquistarlo o meno, spetterà sempre ed unicamente a voi. Passiamo ora alla Premium Car Collection di Uta, che vedrà in primo piano le sei diverse artwork presenti sulle carte contenute nel fascicolo, con il nome del prodotto in alto al centro, il logo del gioco in basso collocato nella stessa posizione, e i loghi della casa produttrice sulla parte frontale, con le uniche carte mostrate in chiaro, il tutto su trama a tinte rosa, giallo e celeste, sul retro. Aprendo il libricino troverete le carte in questione, tutte alternative art, e pronte per essere impiegate nei vostri deck preferiti. Anche qui sarà presente la stessa trama che ha caratterizzato la parte esterna dell'articolo. Ma non è tutto perché, oltre ai sei elementi da collezione, sarà presente anche un deck box a tema Uta, in tonalità rosa e bianco, che riporterà il Jolly Roger della cantante, con un pentagramma alle spalle, e il titolo del TCG in questione in basso, sulla parte frontale. Le immagini del personaggio protagonista di questa collection intenta dare spettacolo con il suo rispettivo nome, sia sul fianco destro che sinistro, il solo nome del gioco sulla parte superiore, e la stessa raffigurazione che si potrà trovare sul fronte, riprodotta anche sul dorso del portamazzo. In più saranno disponibili anche delle bustine protettive, che avranno sul dorso la figura della stella della musica, sempre coinvolta in uno dei suoi show, e sul fronte una superficie chiara, con sfondo argentato, che vi permetteranno di utilizzare le carte che impiegherete in partita, fornendogli un primissimo scudo difensivo. Incluso nell'insieme anche un divisore, che riprenderà, anche in questo caso, la stessa livrea della parte frontale e dorsale dell'accessorio primario, utile per andare a creare un compartimento separato, che vedrà il deck e i don risiedere in due sezioni ben distinte. Quindi passiamo alle considerazioni, se siete dei collezionisti, ottimo, questo è l'ennesimo prodotto da integrare nella vostra raccolta, mentre se sarete giocatori, vi dico solo che il prezzo si aggirerà anche qui sulla sessantina d'euro, e facendomi in giro su Car Market, se reperirete il tutto singolarmente da un unico venditore, andrete a spendere meno di 20 euro. E ma Arconte, tutte le carte qui però saranno alternative, e ci sarà anche un deck box con bustine incluse. Ok, siamo d'accordo, ma con 60 euro potrete recuperare il 3 per di ogni carta inclusa in questa collezione. Per quanto riguarda il deck box e le bustine, non fanno testo. Fino a quando si tratterà di accessori fatti di plastica, che avranno una chiusura in velcro, come questo o quello già visto negli starter dei tre capitani, le sleeves invece potrete recuperarle singolarmente, volendo, dal mercato secondario. E detto ciò, non vedo come si possa giustificare un prezzo del genere. Sì, è vero, sono tutte alternative, ma cambia qualcosa a livello d'effetto tra un Autacost 8 Secret di OP02 e questa qui? Insomma, non è un articolo che mi convince più di tanto. Poi, magari, non vedo qualcosa che ha la luce del sole, ma 60-70 euro per questo? Davvero? Signore della Bandai, potete fare di più. Già solo cambiando materiale per il deck box. Fatelo in similpelle, nexofiber, ultrafiber, fibra diretta, 200 giga di connessione, come volete, ma giustificate il prezzo. Quindi, non saprei, si poteva di sicuro trovare una quadra migliore per questo insieme di articoli. Mi auguro che, con il prossimo, si avranno situazioni più pensate. Terminiamo, infine, con la Premium Car Collection Bandai Car Game Fest 2023-2024 Edition, che, come per quella di Utah, riporterà in primo piano le immagini di solamente 6 delle 12 carte presenti nel fascicolo, il titolo del gioco subito sotto, con quello del prodotto in alto, e i loghi della casa madre sulla parte frontale, con le immagini in chiaro di ogni elemento IV incluso e tutte le informazioni legali del caso descritte sul retro dell'articolo. Aprendo il fascicolo, vi ritroverete ad ammirare le carte che già hanno fatto la loro comparsa in dei circuiti competitivi del gioco. Alcune di loro sono state distribuite come winner, vedasi la Black Maria ed il Sanji Counter più 2000. Ma non solo. La presenza di Luffy Rosso e Jimbe Blue fa sì che siano presenti anche due promo. La prima è proprio la prima numericamente parlando, da quando il TCG in questione è stato messo in commercio. Mentre per l'uomo pesce è stato distribuito in tornei di caratura maggiore e rappresenta la trentesima in ordine, utile in deck come ad esempio Doflamingo, dove però ultimamente non ha visto molto spazio. Disponibile ad una media di prezzo che si aggira attorno ai 45-50 euro, questa collezione la trovo sicuramente più funzionale rispetto a quella di Utah. Anche qui il discorso, reperire il tutto singolarmente per avere un risparmio considerevole, ovviamente va fatto. Ma a differenza della cantante che da quando è stata tramutata in carta ha visto raramente spazio nel meta a meno che non sia stata verde, per queste 12 la situazione di certo cambia. Sanji Counter più 2000 può trovare spazio, come Tassigi e Fukuru, idem per Brook, Izzo e lo stesso Jimbe. In sintesi, qui si avrà più materiale per giocare. Per i collezionisti, senza neanche a dirlo, sarà un'attacca in più sul proprio contatore, mentre i giocatori avranno quel qualcosa in più da utilizzare, ma allo stesso tempo torna, come già detto, il fattore mercato secondario. Perciò anche qui, come peruta, la scelta finale spetterà sempre a voi, quindi valutate per bene ogni situazione prima di procedere con l'acquisto. Tre articoli singolari e costosi, che trovano spazio più nelle grazie di chi vuole avere il prodotto sealed, che per chi invece vuole sfidare altri aspiranti re dei pirati. Personalmente adoro il Playmat, ma perché ho un debole per questa categoria di accessori, mentre per i restanti due trovo, come già accennato, più utile il festival che la collection di Uta. E voi, cosa ne pensate? Fatemelo sapere nei commenti. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Loop Games per avermi dato la possibilità di parlare dei prodotti mostrati in questo contenuto. Vi lascerò ogni riferimento al loro negozio e dove trovarli, come sempre in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti, dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo nel prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!